Nel 2024 sono stati 4.730 gli incendi. Savarino sono quasi tutti dolosi. Al lavoro per selezione di nuovo personale forestale e l'attivazione di una control room. L'estate siciliana del 2024 è stata arroventata da oltre 4.700 incendi e l'assessore regionale a territorio e ambiente Giuse Savarino denuncia sono quasi tutti dolosi. Abbiamo trovato gli inneschi e il capo della protezione civile Salvo Colcina condivide e sottolinea le fiamme si scatenano con la mano dell'uomo e contro i piromani si medita l'attivazione di una control room ovvero una stanza dei bottoni da dove manovrare, prevenzione e repressione. Secondo i dati dell'assessorato nel 2024 in Sicilia si sono susseguiti 4.730 incendi. Nello stesso periodo del 2023 sono stati 5.300 e nel 2022 furono 7.180 e l'assessore Savarino ribadisce quasi tutti gli incendi sono appiccati dall'uomo la guardia forestale trova gli inneschi e le procure indagano i roghi danneggiano non solo le nostre bellezze naturali ma mettono a rischio anche le vite. Più recentemente centinaia di ettari di macchia mediterranea sono stati bruciati tra le province di Palermo e Trapani a Balestrate, Partinico, Altofonte, Carini ed Erice. Vigili del fuoco forestale e carabinieri hanno scoperto gli inneschi. In alcuni casi è stato necessario sgomberare le abitazioni dei residenti e lavorare anche di notte per domare le fiamme. Sul fronte della lotta al fuoco incombe la carenza di personale forestale. Il primo concorso per 46 agenti è stato annullato per presunti favoritismi. L'assessore Savarino è al lavoro per nuove selezioni per un totale di 250 posti nei prossimi due anni e che in parte serviranno alla gestione della nuova control room. E Savarino spiega Il presidente Schifani ha sbloccato 25 milioni del PON Sicurezza per un progetto sulle Criminal Focus Area. Vogliamo anche attraverso gli infrarossi monitorare le aree più a rischio con una sala di controllo regionale gestita con la protezione civile in modo da non dare tregua a chi appicca le fiamme. Contro i piromani sono state raddoppiate le pene e ricorrono anche interessi e speculazioni sui terreni. Bruciare per poi costruire. I comuni aggiornano il catasto incendi. Negli ultimi due anni l'assessore regionale agli enti locali Andrea Messina ha nominato i commissari nei comuni in adempienti sul catasto e con il monitoraggio sulle terre devastate dal fuoco non è possibile alcuna speculazione edilizia dopo i roghi. La regione ha inoltre concluso una convenzione con i vigili del fuoco che collaborano a loro volta con la protezione civile. Fondamentale è il ruolo dei cittadini per i quali a immediata disposizione vi è il numero telefonico 1515 per le segnalazioni.